Allora a me è stato dato il compito gli aspetti psicologici in questa prima slide che vi presento ho messo proprio il paziente al centro e attorno al paziente ruotano diverse figure tra cui lo psicologo, il caregiver, l'infermiere, l'ematologo i familiari, i figli e il volontario dell'AIL parte fondamentale nel percorso di cura di un paziente ematologico dove è presente l'AIL il ruolo dello psicologo è proprio quello di aiutare il paziente con il primo impatto con la malattia che si accompagna generalmente con dei vissuti che possono essere di angoscia, di paura, rabbia, tristezza e anche isolamento le reazioni emotive quindi sono uniche possono essere anche differenti proprio da una persona all'altra le modalità che può avere il paziente possono essere correlate ad esempio all'abituale stile di vita che ha nell'affrontare proprio le difficoltà e i problemi alle caratteristiche proprio di personalità e a quell'atteggiamento che lui ha verso il mondo che può essere un po' più pessimista, realista, ottimista proprio l'elaborazione e anche la valutazione delle informazioni che riceve sulla malattia e ad un aspetto molto importante è l'eleanza tra medico e paziente i pazienti e i loro familiari quindi si confrontano con risposte che sono emozionali e comportamentali che possono essere incluse in un percorso che è caratterizzato diciamo da cinque stadi come può essere quello della negazione anche di isolarsi, della rabbia della contrattazione di una fase alcune volte anche depressiva e la cosiddetta accettazione il ruolo proprio dello psicologo qual è? di aiutare il paziente a far vivere il paziente con una malattia rara che quindi ha molte importanti ripercussioni dal punto di vista psicologico perché va ad impattare su ogni aspetto della vita del paziente e anche del familiare in quanto deve prendere anche delle scelte e decisioni importanti rispetto alla sua vita e diciamo anche familiare la persona che vive quindi con una malattia subisce una perdita sia di importanza che anche di indipendenza possiamo dire che quindi la malattia occupa uno spazio e un tempo e quindi opportuno e ospicabile un approccio al paziente che guardi alla malattia senza tralasciare proprio la fragilità le debolezze e i bisogni che sono proprio della persona sappiamo molto bene che quindi ci vuole uno sforzo collettivo perché diciamo tra medici, cure e anche i servizi che vengono garantiti proprio al paziente il supporto psicologico ha il compito di contenere il disagio quindi emozionale dovuto proprio alle limitazioni fisiche di favorire il più possibile la convivenza con la malattia per consentire un'adduata compilanza ai trattamenti che sono previsti dal medico quindi è necessaria una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia perché proprio l'adattamento emozionale del paziente è molto influenzato dalle risposte emozionali e compartimentali di chi si prende cura di lui quindi non sottovalutiamo questo aspetto è molto importante tenere conto del sistema familiare non solo del paziente in questi casi diciamo che il supporto psicologico permette proprio di riconoscere di comprendere e gestire le reazioni psicologiche individuali di favorire il superamento del senso di impotenza e di colpa e alcune volte anche di ineguatezza che il paziente vive cercare di rinforzare le abilità residue che ha il paziente rispetto alla patologia che sta vivendo cercare di promuovere l'accettazione della malattia e anche la richiesta d'aiuto e evitare il più possibile l'isolamento c'è diciamo una domanda che il paziente si pone proprio perché tutto questo sta capitando a me perché proprio questo tipo di malattia quello che è importante fare è cercare di supportare il paziente per provare a rendere a trasformare la domanda perché a me che cosa posso fare adesso quindi convivere con la malattia e le limitazioni che derivano proprio dalla malattia significa cercare ricercare un costante equilibrio tra ciò che sono santo e so e ciò che posso fare ancora e come lo posso fare quindi questa consapevolezza della malattia è proprio un percorso molto delicato ed evolutivo che va favorito con molta gradualità proprio in base alle caratteristiche sia emotive che cognitive del paziente vediamo cosa si intende per accettazione l'accettazione può essere sia passiva che attiva quella passiva è definita così quando proprio domina la rassegnazione il senso di sconfitta e di rinuncia a reagire prende proprio il sopravvento un atteggiamento di totale rifiuto della propria condizione invece quella attiva quando il paziente rifiuta di sentirsi malato e si impegni a mantenere il più possibile il proprio stile di vita e quindi permette tutto ciò una migliore qualità della vita quotidiana rifarza anche al massimo le sue capacità sicuramente le ematologi che sono qui che hanno fatto le loro bellissime presentazioni si saranno trovati ecco ad ascoltare quello che insomma che sto dicendo ci saranno tanti casi ecco dove il paziente avrà avuto serie difficoltà ad accettare la malattia sia il paziente che il familiare quindi un adattamento funzionale alla malattia proprio necessita il riconoscimento l'elaborazione dei vissuti di rabbia di tristezza e di paura che accompagnano la diagnosi che viene fatta al paziente sono tutte reazioni fisiologiche che hanno tutti sono importanti e quindi anche se sono transitori queste emozioni non bisogna sottovalutarle il sopraggiungere di una malattia cronica rappresenta proprio un evento che non è né scelto né desiderato e quindi va a determinare un disequilibrio esistenziale una rottura che proprio va a portare incertezza nella persona e nel sistema familiare quindi una malattia cronica comporta il confronto proprio con la limitatezza dell'essere umano il senso della vita viene messo in discussione a causa proprio del vissuto di minaccia alla propria progettualità all'adempimento che si aveva all'interno della famiglia al raggiungimento degli obiettivi che si erano prefissati prima della malattia quindi che cosa significa convivere con una malattia cronica non poter condurre una vita del tutto normale e quindi costruire il pensiero di una diversa normalità percepire i propri limiti di fronte a determinate situazioni perché bisogna assumere continuamente i farmaci seguire terapie specifiche e sottoporsi a controlli ripetuti e continui avere la consapevolezza di non sentirsi mai completamente sicuro diciamo che tutto questo si può proprio riassumere in un costante vissuto di precarietà e di incertezza sia rispetto al presente che al futuro che si va proprio a delle ripercussioni sul benessere psichico della persona emerge quindi in maniera molto importante che il prima c'è un prima un prima che è un diverso dal dopo c'è un prima rispetto alla malattia e il dopo che arriva con la malattia quindi diventa prioritario imparare a conoscere la propria malattia e cercare di ridimensionare le aspettative non è inutile diciamo voler a tutti i costi cercare di far finta che non è successo nulla per questo con il supporto psicologico è possibile per il paziente imparare ad accettare la nuova realtà ristrutturare le proprie risorse anche ridefinire il senso della propria vita diciamo il decorso clinico della patologia diciamo porta anche ad avere delle problematiche rispetto alla qualità della vita del paziente il trattamento per questo tipo di sindrome meno displastiche veramente varia in base al tipo di sindrome all'età del paziente e allo stato di salute uno tipo di trattamento è il trattamento di midollo osseo il compito proprio quello dello psicologo è aiutare i pazienti i familiari anche gli operatori i sanitari sia nella fase preta pianto che nella fase post-trapianto quindi il trapianto si va a configurare come un processo che ha diverse fasi c'è l'insorgenza della malattia la comunicazione della necessità di trapianto l'inserimento della lista di attesa il trapianto il ritorno a casa e il dopo il trapianto queste sono tutte fasi molto importanti e delicate sia per il paziente che per il familiare che ovviamente per il medico con il quale il paziente interagisce il trapianto che quindi è una condizione di grande fragilità sia fisica che psicologica bisogna affidarsi agli operatori sanitari cosa non semplice perché diciamo la persona diventa dipendente da altre persone vissuti di regressione dovuti all'isolamento e anche all'ospedalizzazione e anche di ecco dipendenza come dicevo prima dagli operatori sanitari dalle terapie e dalle macchine il doppio trapianto c'è un graduale processo di adattamento alla nuova condizione e quindi è anche importante quell'alleanza terapeutica tra medico e paziente perché è una fase in ritorno a casa è una fase molto delicata perché poi ci sono le visite di controllo le assunzioni delle terapie di etes di vita quindi sono aspetti importanti anche gli aspetti legati alle immagini di sé rispetto ai pensieri al donatore anzi legato al reinserimento nella vita sociale familiare lavorative anche dovuti ad un regime terapeutico abbastanza rigido nel post trapianto che possono infatti causare reazioni emotive che vanno a interferire sia con l'andamento clinico che con la qualità di vita del paziente un ho citato diciamo in questa relazione tante volte i familiari i familiari sono importanti bisogna anche con loro i medici devono creare una buona alleanza perché hanno un ruolo di sostegno e di supporto molto importante per il paziente sono un elemento di continuità tra il primo e il dopo tra il dentro e il fuori l'ospedale spesso si fanno carico della parte emotiva che il paziente non potrebbe gestire l'autonomia e ci sono anche timori di un possibile rigetto o di possibili complicanze concludo dicendo che il paziente quindi con mielodispressi ha necessità di una comprensione empatica da parte delle persone vicine e del personale medico sentirsi ascoltati trovare comprensione e accoglienza possono fare la differenza nell'accompagnare una persona che è costretta dalle circostanze della vita a limitare le proprie aspettative quindi prendersi cura della persona significa garantirle una vita che è il più possibile vicino a quella che aveva desiderata e progettata e dove però questo non è possibile noi operatori psicologi medici tutti quanti partecipare ad una ridefinizione del suo progetto di vita concludo con una frase diciamo non mia è l'animo che deve cambiare e non il cielo sotto cui vivi vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti